Iniziamo questo tutorial creando la cartella dove esporteremo i nostri drivers. Successivamente, apriamo il prompt dei comandi come amministratore. Digitiamo il comando Dism con i parametri mostrati in video, nel parametro Destination, inseriamo il percorso della cartella appena creata. Apriamo ora la cartella, e vediamo il risultato dell'esportazione. Invece, se vogliamo ripristinare un driver appena esportato, cerchiamo orecchiamoci su Computer, tasto destro per poi cliccare su Proprietà. Clicchiamo su Gestione Dispositivi. Selezioniamo il dispositivo che ci interessa, clicc destro e poi clicca su Aggiorna dispositivo. Per poi cliccare su, Cerca driver nel computer. Ora, prima di cliccare su Sfoglia, assicuriamoci che ci sia il segno di spunta su, Includi sottocartelle. Per poi selezionare la cartella dove abbiamo esportato i drivers. Ora, non ti resta che cliccare su Avanti e terminare la procedura guidata. La stessa procedura è applicabile, anche quando si scaricano driver in formato zip o in formati non eseguibili, a patto che, prima estraiate il contenuto dell'archivio scaricato. Grazie. 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 Grazie.